Il direttore di un giornale online per italiani che si chiama significativamente Londra Italia quindi insomma è un conoscitore probabilmente più di me della comunità italiana che sappiamo è oltre mezzo milione di residenti a Londra e nel sud dell'Inghilterra quindi insomma abbiamo detto tante volte ma c'è davvero preoccupazione? Sì sì c'è tanta preoccupazione la reazione degli italiani alla notizia della vittoria dell'Iv è stata veramente forte di shock ansia preoccupazione c'è gente che ha pianto che continua veramente a sentirsi travolta da uno tsunami che sinceramente non ci aspettavamo mi sembra peraltro che la reazione sia più forte nei confronti da parte di chi vive qui da molti anni da 5, 10, 20 anni ha messo su famiglia, ha comprato casa si è sempre sentita a casa senza il bisogno di prendere un passaporto britannico adesso di colpo si trova ospite Sì credo che l'atmosfera sia cambiata nel senso che forse per la prima volta molti italiani che vivono qui si sentono un po' stranieri Esattamente così, ci sentiamo stranieri, ci rendiamo conto che non abbiamo un diritto a stare qui come invece credevamo di avere in quanto europei e quindi come dire ce lo dobbiamo guadagnare Vi interrompo solo un istante per ricordare soltanto appunto le parole del sindaco Can di Londra che invece ha detto appunto la comunità internazionale di Londra è la benvenuta sono persone che vivono, producono in questa città quindi c'è stato un tentativo se non altro del sindaco appunto di abbracciare questa comunità internazionale non è bastato? No, non è bastato, lui non poteva fare altrimenti intanto lui è un figlio di immigrati, è un pro Europa ha fatto una campagna molto spinta a favore del Remain Londra poi è completamente dipendente dagli immigrati sia quelli qualificati che lavorano nella City sia quelli che fanno lavori meno qualificati quindi il suo primo pensiero è stato quello di rassicurare tutti noi ma come dire non ha strumenti legislativi per poter assicurare un trattamento diverso da quello che il governo poi deciderà quindi una rassicurazione importante ma non particolarmente vincolata di principio ma poi bisogna vedere cosa cambia veramente nelle norme e questo cercheremo di capire anche adesso